Musica Questa riforma non tocca i confini delle regioni e la rassicurazione fornita dal Ministro per le Riforme Maria Elena Boschi ieri pomeriggio a Campobasso per una manifestazione del PD in vista del referendum del prossimo 4 dicembre ad una domanda sul futuro delle piccole regioni infatti il Ministro ha risposto che i confini non cambiano ma che il testo della riforma rivede alcune competenze delle regioni perché ha aggiunto la Boschi se non si chiarisce cosa fanno le regioni e cosa fa lo Stato nella confusione si blocca tutto per i cittadini per questo, ha proseguito il Ministro, occorreva fare chiarezza affinché alcune regole diventino uniche per tutta Italia E in programma per domani, martedì 25 ottobre il primo dei due appuntamenti romani che il Presidente del Consiglio regionale del Molise, Vincenzo Cotugno ha inteso organizzare per affrontare il delicato tema della salvaguardia dei presidi di giustizia e sicurezza sul territorio molisano Nel tardo pomeriggio di domani dunque il Presidente Cotugno insieme alla delegazione parlamentare molisana incontrerà il Vice Ministro dell'Interno Filippo Bubico Al centro della riunione le possibili soluzioni al fine di scongiurare la chiusura della Corte d'Appello di Campobasso e dei presidi di sicurezza non ultimo il Comando Militare Esercito Molise a rischio soppressione e accorpamento a quello dell'Abruzzo E' nostro dovere, ha ribadito il Presidente del Consiglio regionale tenere alta l'attenzione sulla sicurezza del nostro territorio e garantire ai molisani servizi identici alle altre regioni Tende a raggiungere lo stesso obiettivo anche il secondo appuntamento romano in programma ovvero l'incontro tra il Ministro della Difesa Pinotti e i membri del tavolo permanente costituito dallo stesso Presidente Cotugno 90 milioni di euro sono le risorse che il decreto fiscale firmato sabato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella assegna al trasporto regionale Alla Regione Molise viene concesso appunto un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 a copertura dei debiti del Servizio di Trasporto Pubblico Regionale nei confronti di Trenitalia In particolare si attingerà al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 dal quale verranno assegnati anche 600 milioni alla Campania per far fronte ai debiti della Circonvesuviana Il Parlamento ha 60 giorni di tempo per approvare il decreto fiscale e trasformarlo in legge Gli emendamenti dovranno essere presentati entro il 5 novembre Autisti dell'ATM nuovamente in presidio ad indire la manifestazione di protesta ai sindacati Faisal Cisal, FIT CGL, UILT e UGL I motivi sono da ricercare nello scontento legato al mancato pagamento delle retribuzioni al personale del trasporto pubblico locale da parte della ditta ATMSPA nonché alla necessità di ricevere informazioni sulla situazione riguardante il nuovo bando di gara già in previsione Oggi dunque dipendenti in presidio davanti alla Prefettura di Campobasso e domani dinanzi alla sede del Consiglio regionale La scelta della società di pagare gli stipendi arretrati Con le determini regionali relative al mese di settembre 2016 solo una parte dei dipendenti si legge in una nota delle organizzazioni sindacali sta creando una situazione sempre più insostenibile e non solo economicamente Numerose le perquisizioni eseguite e tante le violazioni accertate in materia di sicurezza stradale Ancora un weekend di controlli serrati da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Isernia su tutto il territorio Pentro Il bilancio delle operazioni parla di 130 veicoli controllati 150 persone identificate tra conducenti e passeggeri 13 violazioni riscontrate in materia di codice della strada due patenti di guida ritirate e due auto sequestrate perché prive di copertura assicurativa I militari hanno inoltre eseguito 10 alcol test per accertare un'eventuale guida in stato di ebrezza alcolica da parte dei conducenti mentre numerose sono state le perquisizioni alla ricerca di armi, droga e refurtiva 15 infine i pregiudicati attualmente sottoposti a misure cautelare o di prevenzione nei cui confronti i carabinieri hanno effettuato controlli sul regolare rispetto delle prescrizioni imposte dalle competenti autorità giudiziarie Il fenomeno del lavoro irregolare o in nero resta una piaga per l'Italia e anche per il Molise A riaccendere i riflettori sul problema il segretario regionale della UIL Tecla Boccardo che chiede una immediata strategia di contrasto secondo i dati del Ministero del Lavoro relativi al 2015 evidenzia Boccardo nelle 2300 aziende ispezionate in Molise 1477 ovvero il 64% sono risultate irregolari per la leader della UIL molisana dunque il contrasto a lavoro sommerso deve essere affrontato in maniera forte occorre una stretta non tanto sui contratti temporanei sostiene Tecla Boccardo ma soprattutto sulla pluralità di modalità con cui si viene chiamati a svolgere una prestazione attraverso un efficace sistema di controlli servirebbe quindi una rete di ispettori visibile, attrezzata e rafforzata e per dare concretezza alla proposta la leader della UIL chiede un luogo di confronto di analisi dei dati e di definizione di strategie comuni con la direzione locale del Ministero del Lavoro IMSS, INAIL, ASL, Carabinieri, Guardia di Finanza con sindacati e associazioni Il prefetto di Isernia, Fernando Guida il presidente del Lanci Molise, Pompilio Sciulli hanno incontrato questa mattina i sindaci della provincia Pentra per affrontare insieme le problematiche relative alla gestione del fenomeno migratorio obiettivo primario dell'iniziativa quello di sensibilizzare i rappresentanti degli enti locali sull'importanza della loro adesione alla rete SPRAR per contribuire a costruire un sistema di accoglienza dei migranti richiedenti asilo quanto più diffuso e condiviso sull'intero territorio nazionale La riunione tra Prefettura, Anci Molise e sindaci della provincia di Isernia è stata anche occasione per una condivisione preventiva del possibile incontro tra esigenze di accoglienza dei nuovi migranti e reali opportunità offerte dal territorio da realizzare anche mediante una distribuzione di migranti equilibrata e sostenibile tra le diverse realtà locali ed una loro effettiva integrazione nel tessuto economico e sociale della provincia C'è tempo fino al 30 novembre per presentare la domanda per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo la comunicazione arriva dal comune di Termoli che ha pubblicato l'avviso per partecipare all'assegnazione Possono partecipare al bando i nuclei familiari il cui indicatore economico equivalente non sia superiore a 10.632,94 euro Le domande, fanno sapere dal comune devono essere compilate sugli appositi moduli disponibili presso le scuole di appartenenza o presso gli uffici del settore politiche e sociali del municipio di Termoli e vanno consegnate al comune entro e non oltre il 30 novembre prossimo L'avviso, insieme ai moduli, è stato pubblicato nella sezione avvisi del sito del comune di Termoli all'indirizzo www.termoli.gov.it